Grazie a tutti e a tutti. Come è stato detto ci ritroviamo sotto questo soleone oggi per denunciare lo scandalo dell'articolo 6 del DDL Concorrenza. Il nostro collettivo politico lo spazio di Manitona è stato aderito con entusiasmo a questa chiamata perché due o tre mesi fa è stata tolta l'acqua al nostro spazio, l'acqua che ci serviva per portare avanti le attività politiche, collettive, dopo scuola con bambini e bambine, gli orti collettivi e tutte le attività che ci stavano dentro. La giustificazione è stata che si trattava di uno spreco di acqua pubblica a fronte dei veri sprechi che vediamo all'interno di questa città legati alla condizione pietosa delle infrastrutture idriche come sappiamo e in questo contesto nel quadro ulteriore della siccità del cambiamento climatico viene fuori, si ripropone la questione delle privatizzazioni con l'articolo 6 e quindi noi siamo qui per lottare per l'acqua pubblica perché l'acqua è lotta per la vita. Grazie.